Il paradosso del nostro tempo nella storia è che abbiamo edifici sempre più alti ma moralità più basse. Autostrade sempre più larghe ma orizzonti più ristretti. Spendiamo di più ma abbiamo meno. Comperiamo di più ma godiamo meno. Abbiamo case più grandi e famiglie più piccole. Più comodità ma meno tempo. Più conoscenza ma meno giudizi. Più esperti e ancora più problemi. Più medicine ma meno benessere. Beviamo troppo. Fumiamo troppo. Spendiamo senza ritegno. Ridiamo troppo poco e guidiamo troppo veloci. Ci arrabbiamo troppo. facciamo le ore piccole. Ci alziamo stanchi. Vidiamo troppo tv e preghiamo di rado. Abbiamo moltiplicato i nostri avieri ma ridotto i nostri valori. Ridotto i nostri valori. Questi sono i tempi dei viaggi veloci. Dei pannolini usa e getta. Della moralità a perdere. Delle relazioni di una notte. Dei corpi in sovrappeso. E delle pillole che possono farti fare di tutto. più comodità ma meno tempo. Più conoscenza ma meno giudizi. Più esperti e ancora più problemi. Più medicine ma meno benessere. Meno benessere. Benessere. Parliamo troppo.